Honda è una cucciola di Segugio che tira al guinzaglio, le danno fastidio i rumori delle macchine e si blocca se sente qualcosa all'improvviso. La proprietaria lamenta il fatto che Honda tira molto e che la passeggiata è diventata un incubo anziché un piacere. Le feci una domanda una volta, cosa vorresti se avessi la bacchetta magica? E lei rispose, vorrei camminare con lei al guinzaglio senza strangolarla ogni volta, vorrei capire come renderla serena, vorrei tra virgolette governarla. Traducendo il messaggio di Luisa voleva comunicare che voleva poter fare una passeggiata con Honda di fianco e potersi godere il momento con lei in serenità. Ciò che mancava fra Honda e Luisa era proprio la fiducia, il guinzaglio anziché colmare le distanze le aveva amplificate. Quando si ha il cane è importante che ci sia un collegamento mentale ed emotivo. Ciao sono Marzio Sala presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. Il comportamento di Honda metteva in difficoltà Luisa che entrando in panico non riusciva più a gestirla. Erano collegate dal guinzaglio ma separate dallo stesso. Honda era da poco che Luisa e ho cercato di farle capire che la relazione con il cane è il pilastro di tutte le attività che si svolgono con il cane che in questo caso era un cucciolone quindi non ancora solido emotivamente e questa piccola mancanza doveva essere colmata proprio da lei, da Luisa, proprio come in un gioco a due. Un cucciolo di sei mesi deve essere guidato nella quotidianità nel cercare di passare piccoli ostacoli come una gratta su marciapiede. Se ci riesce deve essere premiato e lodato amorevolmente. Solo così si crea una relazione ed un'intesa tale per cui ed il proprietario diventano l'uno la spalla dell'altro. Tuttavia non possiamo dimenticare alcuni elementi fondamentali che fanno parte della natura del cane e che non rendono tutti i soggetti uguali, la razza. Infatti onda è un segugio e come tale ha la caratteristica di avere il naso sempre per terra per poter acquisire odori, passaggi di altri cani, è il suo modo di prendere informazioni sull'ambiente. Questo comportamento porta il cane ed in particolare onda a sbilanciare il corpo in avanti per favorire il lavoro dell'olfatto. Il movimento che onda propone porta il guinzaglio ad allungarsi e Luisa a tirare verso l'alto creando un effetto molla che porta entrambe a disconnettersi emotivamente e mentalmente e a togliersi l'una dall'altra. Come abbiamo risolto ti chiederai lavorando sulla lettura del cane e spiegando Luisa che il cane è una macchina perfetta e che non sbaglia un colpo. Ogni suo movimento rappresenta un pensiero, un'intenzione mossa da una motivazione caratteristica della razza e doveva solo imparare a leggerla e a canalizzarla nel modo giusto. Abbiamo lavorato sul rispetto dei tempi di entrambi, sulla lettura da parte di Luisa degli atteggiamenti di onda ed infine sull'uso delle mani che non sembra ma hanno un potere inibitore per il cane e per il proprietario stesso. Infatti quando il cane allunga il guinzaglio tendiamo a fare un movimento verso l'alto che secondo noi serve a trattenere il cane e invece serve solo a strangolarla. Le ho fatto notare che quando cammina in passeggiata per andare a fare spesa semplicemente o per svago usa un movimento naturale di entrambe le mani che non esprime quando non c'è il cane al guinzaglio. Questo lo facciamo tutti perché pensiamo sempre di dover trattenere il cane ed invece dobbiamo lasciarlo esprimere e nel contempo dobbiamo imparare a comunicare con lui. Il movimento ondulatorio delle mani quando camminiamo è caratteristico della nostra specie e si inserisce nel contesto della passeggiata con il cane proprio perché noi controlliamo o pensiamo con questa naturalezza e se non lo facciamo il cane non ha seconda i nostri movimenti. Capito questo passaggio abbiamo cominciato a lavorare praticamente con onda e luisa ottenendo dei piccolissimi obiettivi come un piccolo sguardo sino ad arrivare ad una passeggiata di un quarto d'ora con il guinzaglio morbido e lasco. Il guinzaglio non può essere visto solo come un mero mezzo di contenimento ma come uno strumento dal quale passano informazioni precisi. È un collegamento fra uomo e cane e per diventarlo deve diventare un esercizio quotidiano. Questa era la storia di onda e luisa ma ce ne sono tantissime altre da raccontare. Se ti è piaciuto il nostro video metti un like sulla nostra pagina facebook affinity dog punto educazione cinofila